Capisco che per chi è abituato al sistema americano a venire in Italia è un po' un trauma rispetto alle questioni della burocrazia, del fisco e delle leggi. Io però come sindaco devo rispettare le leggi come le devono rispettare tutti. Dopo le parole non certo rassicuranti di Rocco Commisso sul futuro dello stadio di Firenze, torna a fare ordine sulla vicenda il sindaco Dario Nardella. Il patron viola in mattinata era tornato sulla questione del nuovo impianto ai microfoni di Lady Radio. Ho i soldi per investire nella Fiorentina, ha detto, ma ho bisogno di fare anche ricavi attraverso lo stadio. Prima di partire avrò un nuovo incontro con Nardella. Oggi abbiamo approvato in giunta la delibera che supera tutte le questioni poste dalle quattro osservazioni alla variante urbanistica. Ho parlato con il presidente del Consiglio Milani perché possa essere approvata il prima possibile l'adozione della variante della merca fino al prima possibile in Consiglio Comunale. Anche sul vecchio stadio il Franchi Commisso aveva avuto da ridire, definendo una porcheria la manutenzione dell'impianto di Campo di Marte. E la replica del primo cittadino fiorentino non si è fatta attendere. La manutenzione ordinaria spetta alla Fiorentina e la manutenzione straordinaria spetta al Comune. Noi come Comune spendiamo quasi mezzo milione di euro ogni anno. Abbiamo rimesso a posto tante parti delle infrastrutture. Però lo dico con grande tranquillità e serenità. Ripeto, a me non interessa fare polemica.